Buona domenica sera amici da Frank, è arrivato il post match, domani troverete le Frank Pagelle del derby vittorioso, una grandissima vittoria da parte della Juve ed è la cosa più importante, tre punti importanti, ora ci sarà fra poco Inter Napoli, la Lazio ha anche vinto, perciò hanno vinto tutti, perciò dal punto di vista numerico della classifica sa indietro, però la classifica è cortissima, va bene così, non è un problema, basta fare due o tre vittorie, sperando che qualcuno possa inciampare perché al momento noi potevamo essere più bravi, più cinici, magari in quei pareggi con squadre parecchie inferiori a noi non siamo stati capaci perché se no potevamo davvero avere una classifica migliore e più interessante, questo senza dubbio, come dico sempre per me battere il Torino e sono uno, un ragazzo, magari ragazzo, comunque sono uno dell'81, perciò l'ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juve di Sala 95 sono 30 anni, 29 anni, dove posso dire che è stato uno, forse un Torino 4 anni fa o 5 anni fa, non mi ricordo quando e quello di quest'anno anche poco mordente, c'è stato poco di derby che noi conosciamo, anche di spirito loro lo fanno soprattutto in casa loro a Izzare e voglio anche, come al solito, ringraziare che un altro spot per il calcio italiano è stato fatto, questa volta dai tifosi del Torino, evidentemente arrabbiati per la grossissima prestazione la non vittoria contro la Juve, che hanno smontato bagni, hanno divelto sediolini, hanno lanciato sediolini perciò questo è il nostro calcio, diciamo la temperatura intellettuale del nostro calcio detto questo andiamo alla partita voi come sapete io sono un po' cinico, freddo, nel senso per me il Torino, battere il Torino deve essere la normalità delle cose fin quando il Torino non avrà una proprietà che investirà, prenderà giocatori più forti, che alzano il livello qualitativo e di obiettivi perciò lo posso dire tranquillamente, come ho detto prima, non mi è sembrato un Torino esageratamente combattivo per quello che può richiedere un derby, diciamo la partita stessa, quello che siamo anche noi dove loro hanno fatto soltanto un po' il quarto d'ora, inizio del secondo tempo ma possiamo dire ancora una volta, nella Juve il portiere è stato inoperoso Perini in questo caso, io ripeto, sono contro sempre cambiare troppo Perini però è un lusso avere come secondo Perini, che quando comunque gioca ci dà sicurezza veniamo alle cose importanti, le cose importanti cosa sono? che Hildiz fa il gol e fa la linguaccia, la Del Piero, il giorno del cinquantesimo compleanno di Del Piero a volte ci sono sempre dei segnali, il primo gol in Champions League di Del Piero è stato quel tiro a giro col Borussia Dortmund il primo gol di Hildiz in Champions League è stato quel tiro a giro, palo interno contro il PSV a volte ci sono delle slide indoors e devo dire che Hildiz sta seguendo bene la strada anche comunicativamente, per quanto riguarda i tifosi è molto bravo a seguire le orme di Del Piero a livello di complimenti, a livello anche di storie Instagram dell'esultanza dove sicuramente Del Piero è contento e ha un numero pesante io continuo a pensare ancora che lui troppo esterno o no, 10-15 metri dentro il campo può essere più devastante ma questo è sempre un mio parere da tifoso e io così resto come resto del fatto che il troppo entusiasmo secondo me è esagerato, esagerato non perché non dobbiamo essere entusiasti perché si vede qualcosa di meglio perché io continuo a vedere una squadra lenta nella trasmissione palla dove c'è un giocatore che eleva tutti che è Coppeminer, si era fatto 12 km per un trequartista, 12 km nell'enormità per far capire che non è un trequartista è il famoso, la parola famosa tuttocampista da mezz'ala, aiuta il terzino, aiuta l'attaccante, aiuta l'esterno d'attacco va a raddoppiare, rincorre, recupera palloni è un giocatore che ha allevato tutti nella prestazione, nella nostra percezione pensate un po' domani poi vi snoccioli i dati perché tanti poi mi fanno vedere i dati sempre quando conviene, quando non conviene e danno a gente 7-8 in pagelle, migliori in campo i nostri due centrocampisti centrali, fortissimi ora, il capitano, qualcosa di clamoroso ha fatto un passaggio in profondità novantesimo lì per Consensau ma la percezione è questa perché il ritmo della partita non si è alzato mai e perciò lui si mette là davanti alla difesa, tatticamente è abbastanza, è parecchio direi anche è intelligente, tatticamente, dove poi Turan è in confusione, sale il campo così ma poi i piedi dicono quello che siamo nella partita contro il Torino questo tipo di centrocampo può andare bene per qualità, per intensità, perché il Torino nemmeno l'intensità ha messo per essere un derby Cambiarsi è stato uno dei migliori ha fatto quella sgroppata, ripeto che se noi subiamo una sgroppata dagli avversari in quella maniera diciamo ma dove stavano i nostri difensori perché lui ha tagliato la difesa come il burro e quelli del Torino si sono fatti scappare e poi non l'ha messa in mezzo ha tirato in porta e grazie alla parata non perfetta di Milinkovic è arrivato UEA ed è UEA il giocatore che secondo me ha fatto più passi in avanti rispetto all'anno scorso perché faceva il 3-5-2, perché l'allenatore non era bravo, perché l'allenatore non lo metteva in condizioni perché era il primo anno di UEA, ognuno può creare e cercarsi la sua motivazione migliore io cerco la motivazione che nella UEA può far bene perché in questo momento e quest'anno se manca Gonzales o devi fare il sostituto di Consensau o alternarsi se entra UEA non mi mangio le mani nel senso il giocatore che soprattutto oltre ai 4 gol già stagionali ed è sempre presente in area di rigore anche l'atteggiamento perché ha fatto delle rincorse incredibili per aiutare per esempio Savona Savona sembra un ragazzo dirigente e là come dissi ieri nelle live non bisogna dare pressione però un giocatore che quelle 4-5 volte dove il Torino è riuscito ad attaccare come successe con la Stoccarda come successe con qualche altro occasione in difesa trema un po' ma è la normalità delle cose il problema è che dobbiamo essere più precisi perché poi alla fine noi il secondo gol l'abbiamo fatto al novantesimo mentre il primo tempo potevamo approfittare oggi leggo critiche al nostro centramanti io non dovrò mai dire quando le cose non vanno bene per qualcuno che difende dovrebbe difendere la nostra maglia e vince con la nostra maglia avevo ragione io perché io voglio avere sempre torto su Locatelli, su Vlaovic su Turam, su Cambiaso, su E.A. su qualsiasi giocatore che veste la nostra maglia perché pur che sia la Juve a vincere perciò le chiacchiere stanno a zero però c'è da dire che non dovete arrivare tardi non può essere mai ve lo dico proprio spassionatamente a prescindere dalla simpatia e antipatia le qualità tecniche o umorali o caratteriali o la gestione delle pressioni non può essere mai il problema di un allenatore solamente c'è anche l'allenatore che è un problema anche il giocatore può essere messo in discussione però cosa succede Vlaovic? siccome ci è simpatico al mondo Juventus, Juventus girl non si può toccare perché arrivano le cavallette perché voi pensate un po' è così anche poco secondo me furbo che in una vittoria come il derby che soprattutto i juventini di Torino sono contenti io ripeto per me la normalità per me il derby è solo uno dei Juventus Inter non fa nemmeno un posto a favore non fa dei complimenti ai compagni non fa i cuoricini come di solito fa soltanto quando segna possiamo anche perdere però se segna lui trova sempre lo spazio per far diciamo non mi fate dire la parola perché voglio essere voglio essere educato perciò io questo voglio dire noi abbiamo vinto una partita normale amministrazione come giusto che sia e dobbiamo continuare a vincere le partite poi si può migliorare ancora io ripeto noi facciamo pochissimi go per quello che è il possesso palla per quello che sono le azioni potenziali perché Milinkovic ieri ha fatto una parata i nostri portieri avversari nelle ultime partite da inizio anno fanno una massimo due parate in una partita questo si può dire credo che nessuno si possa offendere sempre senza fare paragoni perché anche oggi mentre tu fai un complimento a Ken per quello che sta facendo e per me il DNA e il peso della maglia fa la differenza arrivano i soliti con gli ombri con gli ombri che ci devono dire che l'ha nato l'incapaccio l'anno scorso tutti e sempre i soliti paragoni una cosa è certa che la Juve col Torino deve vincere come doveva vincere col Cagliari come doveva vincere col Lempoli come doveva vincere col Parma come doveva vincere con la Roma la Roma ha quattro punti dalla zona retrocessione perciò guardiamo il bicchiere mezzo pieno senza mai quando si vince far finta che poi abbiamo battuto Real Madrid City Bayern Monaco Chelsea Liverpool Manchester United no perché se no vinciamo con l'Ipsia sembra che abbiamo fatto qualcosa di epico di qualcosa di mondiale quando l'Ipsia prende quattro partite dal Celtic perde quattro partite in Champions League fa fatica in Bundesliga e perdiamo poi con la decima della Bundesliga e allora ci vuole sempre equilibrio che non guasta mai perché la strada è lunga e vede una squadra ancora lenta spesso in confusione non intensa non cattiva agonisticamente sono aspetti che nel calcio di ora che hanno vinto tutte basta dire Fiorentina e Lazio contano se pensiamo che invece conti soltanto avere la propensione di squadra girare palla una all'ora fare 800 passaggi una partita sia l'elemento fondamentale per vincere secondo me siamo fuori strada ma io siccome non voglio vincere ma non voglio arrivare nemmeno quinto io sono un tifoso semplice ci hanno detto nelle prime quattro dobbiamo arrivare nelle prime quattro ci hanno detto che dovevamo vedere calcio spettacolo calcio spettacolo non se ne vede ci hanno detto calcio champagne calcio champagne non se ne vede dovevamo fare quattro gol a partita quattro gol a partita non se ne vede questo lo possiamo dire in maniera chiara ma non è né per screditare né per difendere per dire che quelli a bocce ferme pensano già cosa sarà il futuro beh io li dico siete bravissimi ma il calcio è un'altra roba amici io vi invito sempre ad iscrivervi al canale non perché io ho ragione ma semplicemente perché quello che dico è ciò che penso e non dove va il greggio ricordatevi che se il greggio ha tutta la lana bianca di pecoroni a me se è un po' più oscura la lana me ne fotte meno di zero perché io non devo seguire il greggio per difendere le idee di nessuno ciao a tutti